È stato eletto un nuovo segretario generale della CISL Verona, è Giampaolo Veghini. Massimo Castellani va in pensione dopo 11 anni vissuti con impegno per i lavoratori, pensionati, disoccupati, anni in cui Verona ha attraversato momenti di grande difficoltà. La prima è l'ultima, la prima è stata la crisi occupazionale determinata della crisi finanziaria del 2009 quando ho iniziato una crisi pesantissima e l'ultima, questa del lockdown, che è ancora più pesante, ancora più pesante perché ha questo elemento di incertezza perché tutti quanti diciamo è a ottobre, riprenderà, non riprenderà, quindi queste sono le due crisi che hanno all'inizio e alla fine caratterizzato questo mio bellissimo periodo che ho trascorso all'interno della CISL Verona, bellissimo dal punto di vista umano, dal punto di vista professionale. Proprio la gestione del sindacato durante questo periodo storico di pandemia sarà una sfida importante per il nuovo segretario generale della CISL, Giampaolo Veghini. Ringrazio il Consiglio generale che mi ha eletto e questa è una grande responsabilità del primo sindacato veronese. Le prime sfide che abbiamo è di fronte a una pandemia sanitaria che c'è stata, poi di conseguenza avremo di fronte anche una pandemia economica che dovremo gestire, che sarà un tsunami incredibile da far fronte per poter andare avanti. Questo dobbiamo trovare un piano strategico per Verona e la sua provincia, insieme a altre associazioni sindacali, imprenditoriali, per trovare un piano, perciò ognuno deve mettere il proprio ingrediente per trovare la ricetta per uscire da questa situazione delicata. A Veghini il segretario uscente Castellani lascia una CISL rafforzata e vitale. Lascia una CISL forte dal punto di vista degli iscritti, lascia una CISL solida dal punto di vista economico, lascia una CISL presente sul territorio, tantissime sedi, tantissimi ricabiti, lascia una CISL fatta di donne e di uomini che vedono nel sindacato un soggetto in grado di dare una risposta di giustizia sociale alle persone.